Il 2012 si apre a gennaio con tre vertenze destinate a tenere banco per 365 giorni. Si tratta delle vicende della Beltrame di San Giovanni Valdarno della 1R di Eutele ad Arezzo. A febbraio è il maltempo a farla da padrone con nevicate che costringeranno le zone montane di Valtiberina e Casentino a rimanere tagliate fuori se non per la macchina dei soccorsi per giorni. A marzo tiene banco l'omicidio di via Guadagnoli scaturito da una lite tra un trentenne di Subiano ed un coetaneo tunisino. Quest'ultimo condannato a dicembre per lo stesso reato. I mesi primaverili sono caratterizzati dall'evolversi in chiave sindacale delle vertenze citate da una serie di operazioni firmate da polizia, carabinieri e guardia di finanza mirate a stroncare la microcriminalità in provincia. A luglio è il caso della ragazzina minorenne violentata a Sansepolcro che finisce in prima pagina. Lo stupro avvenuto durante la Notte Bianca provoca sconcerto nella città della Valtiberina. A settembre inizia la battaglia, al momento vinta per la salvaguardia dell'autonomia della provincia di Arezzo. A livello lavorativo scoppia l'avvertenza Buitoni. L'azienda annuncia inaspettatamente 18 licenziamenti per Sansepolcro che dopo una battaglia sindacale saranno tamponati con prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Ottobre è il mese delle visite dei ministri. In pochi giorni ne arrivano quattro per iniziative a livello locale. A novembre scoppia il caso del tongo con lavoratori e aziende in difficoltà mentre la Guardia di Finanza firma una maxi operazione con un traffico di oro e compro oro. L'anno si chiude come era iniziato con tante preoccupazioni a livello sindacale e lavorativo e tante speranze per il 2013.